Noi sono momiesi che stiamo evidenziando un problema di scarsità di personale, mancano infermieri e os su tutti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia. Marchenor si trova ad affrontare la quarta ordata con meno dipendenti rispetto a un anno fa. Noi questo l'abbiamo gridato, l'abbiamo urlato. La direzione ha detto che le uniche soluzioni che sta mettendo in campo sono due avvisi a tempo determinato. Che comunque sono positive ma avranno gli effetti probabilmente dopo il periodo natalizio e quindi non avranno un effetto immediato. I carichi di lavoro purtroppo stanno diventando insopportabili. Nella quarta ondata come sempre il punto di riferimento a livello regionale è l'azienda ospedaliera Marchenor. Punto di riferimento per quanto riguarda i ricoveri ma purtroppo a livello regionale non c'è supporto in quanto stiamo facendo, cioè i lavoratori stanno continuando a supportare e assistere i pazienti anche nella bassa marcha senza avere nessuna risorsa umana in più. Per noi è incomprensibile che ci troviamo a dicembre a discutere di azioni che forse potranno produrre i loro effetti a gennaio o febbraio quando la criticità maggiore saranno già passate. C'è anche il tema del personale sospeso che sanno perfettamente che è sospeso perché praticamente è da settembre che manca, sono altre 40-50 persone che vengono meno, quindi come dicevano i colleghi siamo con un carico di lavoro superiore, il 43% dei pazienti covid della regione Marche ricoverati nelle strutture sanitarie della provincia e un numero di addetti ai lavori inferiori. Non è più sostenibile ma noi non ci arriviamo alle feste di Natale in queste condizioni. Ci sono dei reparti che non riescono a chiudere i turni. La soluzione prospettata per l'ennesima volta è la riduzione di alcune attività di servizio all'utenza, quindi c'è un problema per i lavoratori che non riescono a fare le ferie spesso del 2019, per i pazienti che non riescono ad accedere a tutte quelle prestazioni che non sono collegate al covid. Dopo due anni non si può ragionare ancora in termini emergenziali riducendo attività e comprimendo i diritti dei lavoratori.